Voglio avere 30 bambini, dichiarava tempo fa Blake Lively, moglie di Ryan Reynolds e mamma di sua figlia James. Un traguardo certo difficile da raggiungere, ma la coppia olivo-odiana sembra sulla buona strada. A un anno e mezzo dalla nascita di James, la Lively è già nuovamente incinta, come assicurano i tabloid americani, US Magazine e... online in testa. Dalla stampa a stelle estrisce arriva anche una dichiarazione di una fonte vicina ai due innamorati, marito e moglie dal 2012. Lo volevano davvero, Blake ha sempre detto di volere due o tre figli vicini. L'attrice lanciata nei panni di Serena Van Der Vodsen nella serie TV Gossip Girl è stata paparazzata con pancino prominente negli ultimissimi giorni di set del suo nuovo film, The Shalovs Storia adrenalinica della lotta troma surfista e gli squali, in Italia uscirà a giugno nel con il titolo Paradise Beach dentro l'incubo. Si mormora che sarà una femminuccia, proprio come la primogenita nata dicembre 2014 e battezzata con il nome maschile James in onore del padre di Reynolds, malato di Parkinson e morto qualche mese dopo. Facile immaginare la gioia dei futuri genitori Bess, visto l'entusiasmo dimostrato dall'attore di The Adepal dopo l'arrivo di James. È incredibile come si possa essere esausti e felici allo stesso tempo. Devi correre e fare ogni genere di cose. Ho provato persino l'allattamento al semo. È frustrante per la bambina e francamente inquietante per il sottoscritto. Chi se ne frega.